L'ospedale Santimoteo di Termoli sarà un dea di primo livello e questa la risposta del presidente commissario Donato Toma alla legittima preoccupazione espressa dai sindaci del Basso Molise sul futuro del nosocomio adriatico, assediato da due tipi di problematiche. Da un lato la costruzione di un nuovo ospedale in territorio abruzzese, precisamente a San Salvo, e dall'altro dalla progressiva perdita o riduzione di servizi conseguente alle regole draconiane imposte dal tavolo tecnico romano e soprattutto dal decreto Balduzzi. La soluzione alla quale si sta lavorando in conferenza dei presidenti, dice Toma, è politica e riguarda il superamento proprio del decreto Balduzzi. Non parlo come commissario ad acta perché il commissario ad acta deve agire in relazione alla normativa attuale. La normativa attuale prevede per il Molise tre ospedali, in particolare un dea di primo livello a Campobasso, Lab, e due SPOC che sono collegati, non sono ospedali di idea di primo livello, ma sono collegati al Lab Campobassano, più un ospedale di aria disagiata che è quello di Agnone. Per variare questa situazione va cambiato il DM70, il famigerato decreto Balduzzi. Sono in corso però i tavoli, in uno di questi ci sono io e c'è la nostra direzione generale della salute, i tavoli per le modifiche al DM70. Lì si giocherà anche il futuro del Molise, cioè il futuro del Molise si gioca a Roma. L'idea, quella che avevo io in programma quando mi candidai e che sto portando avanti, è quella di un dea di secondo livello a Campobasso. Questo significa che potremo aspirare a un dea di primo livello a Termoli in maniera tale da renderlo come ospedale che eroga servizi sanitari appetibile e interessante per tutta la popolazione, non solo molisana, ma anche delle regioni limitrofe. L'ospedale di Termoli ha un futuro da dea di primo livello che si gioca a Roma. Sul fronte del nuovo piano operativo sanitario, Toma ha avviato le consultazioni con le parti interessate, interlocuzioni che continueranno anche nelle prossime settimane. Ufficialmente l'ascolto è iniziato con l'incontro che ho avuto con la conferenza dei sindaci, con il direttivo della conferenza dei sindaci della settimana scorsa. Continuerà con i comitati, i vari comitati a difesa dei vari ospedali. Continuerà ancora con l'incontro che avrò, a breve lo fisseremo, con gli ordini dei medici molisani, due ordini dei medici. Continuerà con una ricognizione delle esigenze che farò direttamente presso i nosocomi molisani. Ascolterò poi i sindacati, ascolterò i cosetti stakeholders, chiunque portatore di interessi.